Subentrato al supermercato SMA, una decina di anni fa, il marchio Simpli ha chiuso i battenti sabato scorso alle ore 13 con una grande svendita. Una liquidazione di quelle che fanno fare la fila, tutto a metà prezzo e tutto a un euro. L'assalto agli scaffali non è mancato anche per un momento economico dove la gente guarda anche il centesimo. La notizia del cambio di gestione era arrivata a fine dello scorso anno con la vendita del marchio Simpli alla Conat e forti apprezzioni di un'eventuale chiusura del punto vendita. Ne è seguita anche un'interpellanza in consiglio comunale dove però emergeva la volontà di una continuità del punto vendita. Poi l'emergenza contagio dal coronavirus ha allungato i tempi dell'operazione di vendita. I dipendenti rimarranno tutti e il compratore finale invece è andato ad un altro marchio. Dopo la chiusura di sabato scorso aprirà probabilmente l'8 luglio, dopo una ristrutturazione e la reorganizzazione degli spazi interni. Il nuovo marchio sarà Leader Price, una catena di supermercati che fa a capo a Crai, la commissionaria riunita e alimentari italiani. Un marchio nuovo da scoprire insieme ai clienti affezionati al comodo supermercato di piazza del mercato Fornovo. Se in zona sono pochissimi i punti vendita Crai, oltre a città ne troviamo uno a Noceto e qualcuno in montagna, quelli propriamente del marchio Leader Price è una vera e propria novità per Parma e provincia. In Italia li troviamo soprattutto nell'Alta Lombardia e Veneto. In Emilia, oltre a Bologna, Imola e Forlì, il più vicino a noi lo troviamo a Piacenza. Il marchio Leader Price stesso promette bene, leader nei prezzi. Speriamo che siano i migliori di tutti gli altri supermercati, al ribasso. Speriamo che siano i migliori di tutti gli altri.